L'economia italiana è veramente impostata su quella che è la piccola e media impresa, sono in percentuale tantissime le piccole e medie imprese che in tutto il nostro paese portano avanti l'economia delle realtà locali, delle realtà territoriali ed ecco che è su questi presupposti che Confartigianato, provincia di Ancona e Pesaro, ha organizzato una settimana dedicata proprio agli artigiani, all'associazione di Confartigianato. Si chiama Ars Ingenium, una serie di convegni che dal 27 di settembre fino al 3 ottobre avranno luogo in questa meravigliosa location che è la Rotonda sul mare di Senigallia per affrontare diversi temi. Nasce la mostra con l'idea di una mostra appunto per artigianato artistico, però in questa settimana vogliamo parlare di artigianato a 360 gradi. Artigianato non è solo artigianato artistico, naturalmente ci sono tante piccole imprese che operano in questo mondo, quindi noi vogliamo riportare all'attenzione proprio i temi di queste imprese che stanno anche andando molto bene in questo momento per molte attività e molte categorie, però vediamo anche delle criticità che sono sicuramente dietro l'angolo e dobbiamo affrontare quelle che possono essere le difficoltà. Vorremmo che questa ripresa che è partita appunto molto bene si possa trasformare appunto in una ripresa sostenibile. Per far questo abbiamo bisogno di fare veramente quelle norme, di mettere mano a tutte quelle norme che stanno creando difficoltà al fare impresa in questo Paese e in particolare a questa tipologia di imprese.